533 nuovi casi di covid in Abruzzo, il 2,2% dei test tra antigenici e molecolari. Il più giovane è tra i contagiati a 4 mesi, il più anziano 97 anni. La zona più colpita è ancora l'area metropolitana, dove dilaga la variante inglese. Secondo le stime, il nuovo ceppo del virus riguarda un caso su due. Il comune più colpito è Pescara, 105 contagi. Seguono le altre città dell'area metropolitana, Montesilvano, Chieti, Cepagatti e Francavilla al Mare. A livello provinciale, dopo Pescara, con 308 casi, c'è Chieti, 119. Qui risulta infetto l'1% della popolazione. Il direttore generale della ASL, Thomas Schell, chiede il lockdown per i comuni a maggior rischio, sotto osservazione speciale Chieti, San Giovanni Tatino, Francavilla, Bucchianico e Atessa. Numeri più bassi nel Terramano e nell'Aquilano, dove rispettivamente i nuovi casi sono 57 e 45. Dati che lasciano immaginare ulteriori restrizioni se la curva non dovesse piegarsi, soprattutto considerata la situazione negli ospedali. Superate in Abruzzo la soglia d'allarme del 30% di occupazione in terapia intensiva, 57 posti letto occupati su 189 complessivamente disponibili nelle quattro ASL. Degli attualmente 11.977 positivi al virus, i ricoverati sono 594, circa il 5%, di cui 537 sono in area medica. Oggi il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi e sale a 1.575. Intanto scuole chiuse a San Giovanni Tatino per un'altra settimana, fino a lunedì 22 febbraio. E anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci, al lavoro su una nuova ordinanza, intende rimandare il ritorno sui banchi.